Tutto trova la sua pienezza, si ricapitola, si riassume in questa parola, amarsi. Però c'è una cosa da dire, che il tempo passa e il problema fondamentale dell'umanità da duemila anni è rimasto lo stesso, amarsi. Solo che ora è diventato più urgente, molto più urgente. E quando oggi sentiamo ancora ripetere che dobbiamo amarci l'un l'altro, sappiamo che ormai non ci rimane molto tempo. Ci dobbiamo affrettare, affrettiamoci ad amare. Noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi, affrettiamoci ad amare. Perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore. Perché non esiste amore sprecato e perché non esiste un'emozione più grande di sentire quando siamo innamorati che la nostra vita dipende totalmente da un'altra persona, che non bastiamo a noi stessi. E perché tutte le cose, ma anche quelle inanimate, come le montagne, i mari, le strade, ma di più, di più, il cielo, il vento, di più, le stelle, di più, le città, i fiumi, le pietre, i palazzi, tutte queste cose che di per sé sono vuote, indifferenti, improvvisamente, quando le guardiamo, si caricano di significato umano e ci affascinano, ci commuovono. Perché? Perché contengono un presentimento d'amore, anche le cose inanimate, perché il fasciame di tutta la creazione è amore e perché l'amore combacia con il significato di tutte le cose, la felicità. Sì, la felicità. A proposito di felicità, cercatela tutti i giorni, continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti ora, si metta in cerca della felicità ora, in questo momento stesso, perché è lì, ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi, ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l'hanno data in regalo, in dote, ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto, come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono. E molti di noi l'hanno nascosto così bene che non si ricordano dove l'hanno messo, ma ce l'abbiamo, ce l'avete. Guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini che ci avete dentro, vedrete che esce fuori, c'è la felicità, provate a voltarevi di scatto, magari la pigliate di sorpresa, ma è lì. Dobbiamo pensarci sempre alla felicità e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita e non dobbiamo avere paura nemmeno della morte. Guardate che è più rischioso nascere che morire, non bisogna aver paura di morire, ma di non cominciare mai a vivere davvero. Saltate dentro all'esistenza ora, qui, perché se non trovate niente ora, non troverete niente mai più. È qui l'eternità. Dobbiamo dire sì alla vita, dobbiamo dire un sì talmente pieno alla vita che sia capace di arginare tutti i no, perché alla fine di queste due serate insieme abbiamo capito che non sappiamo niente e che non ci si capisce niente. E si capisce solo che c'è un gran mistero e che bisogna prenderlo com'è e lasciarlo stare. E che la cosa che fa più impressione al mondo è la vita che va avanti e non si capisce come faccia, ma come fa, ma come fa a resistere, ma come fa a durare così. È un altro mistero e nessuno l'ha mai capito, perché la vita è molto più di quello che possiamo capire noi. Per questo resiste. Se la vita fosse solo quello che capiamo noi, sarebbe finita da tanto, tanto tempo. E noi lo sentiamo, lo sentiamo, che da un momento all'altro ci potrebbe capitare qualcosa di infinito. E allora ognuno di noi non rimane che una cosa da fare, inchinarsi. Ricordarsi di fare un inchino ogni tanto al mondo, piegarsi, inginocchiarsi davanti all'esistenza, come ha fatto un grande poeta che si chiama Whitman ed è con le sue parole che vi vorrei salutare. Spirare, respirare l'aria, parlare, passeggiare, essere questo incredibile Dio che io sono. Oh meraviglia delle cose, anche delle più piccole particelle. Oh spiritualità delle cose. Io canto il sole all'alba e nel meriggio e come ora nel tramonto. Tremo commosso della bellezza e della saggezza della terra e di tutte le cose che crescono sulla terra. E credo che una foglia d'erba non sia meno di un giorno di lavoro delle stelle. E dico che la natura è eterna, la gloria è eterna. Lodo con voce inebriata perché non vedo un'imperfezione nell'universo. Non vedo una causa o un risultato che alla fine sia male. E alla domanda, alla domanda che ricorre che cosa c'è di buono in tutto questo, la risposta è che tu sei qui, che esiste la vita, che tu sei vivo, che il potente spettacolo continua e tu puoi contribuire con un tuo verso. Ci sono momenti difficili, bisogna stare insieme. È la cosa che sappiamo dall'ecclesiaste davvero, no? Due sono più di uno, insieme insomma. Si può uscire da tutto. E vorrei ricordarti un grande padre della nostra patria, che è Sandro Pertini. Io vengo da una famiglia socialista, mio padre era proprio un pertiniano, che è stato in galera, in esilio, e l'hanno fatto vedere anche al telegiornale, è stato, ha fatto la resistenza, ha subito delle cose terribili, proprio per la nostra libertà, perché noi fossimo quello che siamo. Lui ha detto, pensa un po', in un momento di grandissima difficoltà, molto più di adesso, molto più di adesso, che era la prima guerra mondiale, lui era pacifista. Mi è rimasta molto impresso questa cosa. Era un pacifista fin da ragazzo, Sandro Pertini, ma allo scoppio della prima guerra mondiale andò volontario in guerra. Lo sai perché? L'ha detto lui, parole sue. Disse perché io vidi che andavano in guerra tutti figli di contadini, di operai e tutta povera gente. E in quel momento di bisogno io sentivo che dovevo dare più di loro e andai insieme a loro, ma non solo insieme a loro, davanti a loro, in prima linea. Quando c'è i momenti di grande difficoltà, chi ha di più deve dare molto di più in quel momento. E non solo, non solo, disse un'altra cosa bellissima. Disse ai giovani, quando si chiedono i consigli, tu dici delle cose belle per i pischelli, ma i giovani non sentono i discorsi, diceva Pertini, non sentono i sermoni. I giovani non hanno bisogno di discorsi, hanno bisogno di esempi di onestà, esempi di onestà. Devono avere quell'esempio là. E visto che me l'hai chiesto, abbiamo parlato di cose alte e del presidente Pertini, vorrei chiudere con una frase di una persona che Pertini l'amava tanto, un grande artista, che è scomparso purtroppo troppo giovane, si chiamava Andrea Pazienza, un disegnatore straordinario che amava Pertini, se n'è andato molto giovane, e lo saluto leggero come una farfalla. Quando non guardiamo al passato, andiamo avanti cercando di non rifare gli stessi errori, perché noi, gli italiani, sanno dare il meglio di sé nei momenti peggiori, cerchiamo di darlo nei momenti migliori, in modo che i peggiori non vengono, allora di non guardare indietro, andare avanti, Andrea Pazienza, che se n'è andato molto giovane, disse una cosa molto bella, ha lasciato scritto, non bisogna mai tornare indietro, nemmeno per prendere la rincorsa. Grazie a tutti.